Capitolo 9. La dolcezza verso noi stessi. Uno dei metodi più efficaci per conseguire la dolcezza è quello di esercitarla verso se stessi, non indispettendosi mai contro di sé e contro le proprie imperfezioni. È vero che la ragione richiede che quando commettiamo errori ne siamo dispiaciuti e rammaricati, ma non che ne proviamo un dispiacere distruttivo e disperato, carico di dispetto e di collera. E in questo molti sbagliano grossolanamente perché si mettono in collera, poi si infuriano perché si sono infuriati, diventano tristi perché si sono rattristati e si indispettiscono perché si sono indispettiti. In tal modo conservano il cuore come frutta candita a bagno nella collera. Può anche sembrare che la seconda collera elimini la prima, ma in realtà è soltanto per fare spazio maggiore alla seconda, alla prima occasione. C'è di più, queste collere e amarezze contro di sé stessi portano all'orgoglio e sono soltanto espressione di amor proprio che si tormenta e si inquieta per le imperfezioni. Il dispiacere che dobbiamo avere per le nostre mancanze deve essere sereno, ponderato e fermo. Un giudice punisce molto meglio i colpevoli quando emette sentenze ragionevoli in spirito di serenità che quando procede con aggressività e passione. In tal caso non punirebbe le colpe secondo la loro natura ma secondo la propria passione. Allo stesso modo noi puniamo molto meglio noi stessi se usiamo correzioni serene, ponderate e non aspre, precipitose e colleriche, tanto più che queste correzioni fatte con irruenza non sono proporzionate alle nostre colpe ma alle nostre inclinazioni. Per esempio chi è attaccato alla castità andrà su tutte le furie e sarà inconsolabilmente amareggiato per la minima colpa contro di essa e poi farà le matte risate per una gravissima maldicenza commessa. Per contro chi odia la maldicenza andrà in crisi per una leggera mormorazione e non darà peso a una grave mancanza contro la castità e così via. E questo capita perché la coscienza di Costoro non giudica a secondo ragione ma a secondo passione. Devi credermi Filotea le osservazioni di un papà se fatte con dolcezza e cordialità hanno molta più efficacia per correggere il figlio della collera e delle sfuriate. La stessa cosa avviene quando il nostro cuore è caduto in qualche colpa se lo riprendiamo con osservazioni dolci e serene e dimostriamo più compassione che passione lo incoraggiamo a correggersi. Il pentimento sarà molto più profondo e lo compenetrerà più di quanto non farebbe un pentimento pieno di dispetto di ira e di minacce. Per conto mio posto che ci tenessi molto a non cadere nel vizio di vanità e ciononostante ci fossi caduto e sediamente non vorrei correggere il mio cuore con parole come le seguenti guarda quanto sei miserabile e abominevole dopo tante risoluzioni guarda come ti sei lasciato travolgere muori di vergogna non azzardarti più ad alzare gli occhi verso il cielo cieco svergognato traditore sleale con il tuo dio e simili cose. Io procederei invece ragionevolmente con compassione coraggio mio povero cuore eccoci caduti nella trappola da cui avevamo promesso di stare lontano rialziamoci e liberiamocene per sempre invochiamo la misericordia di dio e speriamo in essa d'ora in poi ci darà la sua assistenza per renderci più decisi rimettiamoci in cammino con umiltà coraggio d'ora in poi stiamo in guardia dio ci aiuterà ce la faremo e su questa correzione vorrei costruire un solido e fermo proposito di non ricaderci più prendendo i mezzi più idonei a tal fine compreso il parere del mio direttore spirituale se poi qualcuno pensasse di non essere sufficientemente scosso da questo tipo di correzione potrebbe servirsi di un richiamo o di un rimprovero duro e forte per provocare una vergogna profonda purché dopo aver rudemente sgridato e strapazzato il proprio cuore chiuda con una consolazione ponendo termine alla sua amarezza e al suo corruccio con una dolce e santa fiducia in dio ad imitazione di quel grande penitente che vedendo un'anima afflitta la risolevava in questo modo perché sei triste anima mia perché mi turbi spera in dio io lo benedirò ancora perché è la salvezza del mio volto e il mio vero dio rialza dunque dolcemente il tuo cuore quando cade umiliati grandemente davanti a dio alla conoscenza della tua miseria ma non meravigliarti della tua caduta è naturale che l'infermità sia malata che la debolezza sia debole e la miseria sia misera disprezza con tutte le forze l'offesa che dio ha ricevuto da te e con coraggio e fiducia nella sua misericordia rimettiti nel cammino della virtù che avevi abbandonato capitolo decimo le occupazioni vanno affrontate con attenzione ma senza precipitazione e fretta eccessiva la cura e la dirigenza che dobbiamo mettere nelle nostre occupazioni non hanno nulla in comune con l'ansia la pressione e la fretta eccessiva gli angeli hanno cura della nostra salvezza e la procurano con diligenza ma senza ansia a pressione e fretta la cura e la dirigenza sono espressione della loro carità mentre l'ansia la pressione e la fretta sarebbero contrari al loro stato di beatitudine giacché la cura e la dirigenza possono essere compagne della serenità e della pace dello spirito non invece l'ansia la preoccupazione e ancor meno l'angustia precipitosa si dunque accurata dirigente in tutte le responsabilità che ti saranno affidate filotea se dio te le ha affidate tu ne devi avere grande cura ma se ti è possibile non cadere nell'ansia e nella pressione ossia non affrontarle con cuore inquieto ansioso e tormentato non agire con precipitazione nel compimento dei tuoi doveri la precipitazione turbo la ragione e il giudizio e ci impedisce di compiere bene proprio quello verso cui ci precipitiamo quando il nostro signore riprende marta dice marta marta sei ansiosa e ti agiti per molte cose vedi se la fosse stata semplicemente premurosa non si sarebbe agitata ma è proprio perché era preoccupata e inquieta che si affretta e si agita ed è proprio questo che il nostro signore le rimprovera i fiumi che scorrono dolcemente nella pianura portano grandi battelli con ricche merci le piogge che cadono dolcemente sulla campagna la rendono feconda di foraggio e di grano ma i torrenti e i corsi d'acqua che precipitano a valle con rapide cascate rovinano le campagne circostanti e non sono utili al traffico lo stesso fanno le piogge violente tempestose che travolgono i terreni lavorati e rovinano i pascoli un lavoro fatto con violenza e precipitazione non riesce mai bene bisogna affrettarsi con calma dice l'antico proverbio colui che affretta dice salomone corre il rischio di inciampare e urtare contro tutto facciamo sempre abbastanza presto quando facciamo bene i fuchi fanno molto più rumore e si spostano con molta più fretta delle api ma producono soltanto cera non miele più o meno fanno la stessa cosa coloro che si affrettano con un'ansia bruciante e con una prensione disordinata finiscono con il fare poco e male le mosche non ci danno noia per la mole ma per il numero allo stesso modo si può dire che le occupazioni importanti non ci mettono in agitazione come le piccole perché queste si presentano molto numerose accetta in pace le incombenze che ti capitano e cerca di portare la termine con ordine una dopo l'altra se vuoi farle tutte in una volta e disordinatamente farai soltanto sforzi che ti angustieranno e prostreranno il tuo spirito e finirai quasi sempre schiacciato sotto il loro peso e senza risultato in tutte le occupazioni appoggiati completamente alla provvidenza di dio che è la sola che possa dare compimento ai tuoi progetti tuttavia da parte tua lavora dolcemente per cooperare con essa e si certa che se confidi in dio il risultato che conseguirai sarà sempre il migliore per te sia che ti sembri personalmente buono che cattivo fa come i bambini che con una mano si aggrappano a quella del papà e con l'altra raccolgono le fragole le more lungo le siepi anche tu fai lo stesso mentre con una mano raccogli e ti servi dei beni di questo mondo con l'altra ti tieni aggrappata al padre celeste volgendoti ogni tanto verso di lui per vedere se le tue occupazioni e i tuoi affari sono di suo gradimento fa attenzione a non lasciare la sua mano e la sua protezione pensando così di raccogliere e accumulare di più se il padre celeste ti lascia non farai più nemmeno un passo ma finirai subito a terra voglio dire filotea che quando sarai in mezzo agli affari e alle occupazioni ordinarie che non richiedono un'attenzione molto accurata e assidua guarda dio più delle occupazioni quando gli affari sono così importanti che richiedono tutta la tua attenzione per uscire bene ogni tanto da uno sguardo a dio come fanno coloro che navigano in mare i quali per raggiungere il porto previsto guardano più il cielo che la nave così dio lavorerà con te in te e per te e il tuo lavoro sarà accompagnato dalla gioia capitolo undicesimo l'obbedienza soltanto la carità ci eleva alla perfezione ma l'obbedienza la povertà e la castità sono i tre grandi mezzi per acquistarla l'obbedienza consacra il nostro cuore la castità il nostro corpo e la povertà i nostri beni l'amore e al servizio di dio sono i tre bracci della croce spirituale che poggiano sul quarto che è l'umiltà non intendo parlare di questi virtù in quanto oggetto di voto pubblico riguarda soltanto i religiosi e nemmeno in quanto oggetto di voto privato perché il voto aggiunge sempre grazie e meriti a tutte le virtù tuttavia per portarci a perfezione non è necessario che siano oggetto di voto l'importante è che siano vissute quando sono legate al voto soprattutto se pubblico mettono l'uomo nello stato di perfezione per metterlo invece semplicemente nella perfezione è sufficiente viverle c'è molta differenza tra lo stato di perfezione e la perfezione tutti i vescovi e religiosi sono nello stato di perfezione ma non per questo sono nella perfezione il che si vede anche troppo sforziamoci filotea di mettere bene in pratica queste tre virtù ciascuno secondo la propria vocazione è vero che non ci mettono nello stato di perfezione ma ci daranno l'autentica perfezione tutti siamo obbligati a praticare queste tre virtù anche se non tutti allo stesso modo due sono i generi d'obbedienza l'obbligatoria e la volontaria in forza dell'obbligatoria devi obbedire umilmente ai tuoi superiori ecclesiastici come il papa il vescovo il parroco e i loro rappresentanti devi poi obbedire ai tuoi superiori civili ossia il principe e magistrati da lui preposti al governo del tuo paese poi devi obbedire anche i tuoi superiori familiari ossia tuo padre tua madre il padrone la padrona questa obbedienza si chiama obbligatoria perché nessuno può dispensarsi dall'obbligo di obbedire ai superiori sunnominati perché è dio che ha dato loro l'autorità di comandare di governare ognuno nei suoi limiti fa dunque quello che ti ha comandato è necessario ma per essere perfetto devi seguire i loro consigli e anche i loro desideri e le preferenze nella misura in cui te lo permettono la prudenza e la carità obbedisci quando ti ordinano una cosa gradevole come mangiare prendere un po di ricreazione può anche sembrare che non ci sia grandi virtù ad obbedire in queste cose è certo che sarebbe un difetto grave disobbedire obbedisci alle cose indifferenti quale indossare un abito anziché un altro passare per una strada anziché per un'altra cantare o tacere sarà un'obbedienza molto preziosa obbedisci nelle cose difficili aspre e dure quella sarà un'obbedienza obbedienza perfetta obbedisci poi con dolcezza senza repliche con prontezza senza ritardi con gioia senza tristezza soprattutto obbedisci con amore per amore di colui che per amor nostro si è fatto obbediente fino alla morte in croce e che come dice san bernardo preferi rinunciare alla vita piuttosto che all'obbedienza per imparare ad obbedire con facilità ai tuoi superiori accondiscendi senza difficoltà alla volontà dei tuoi pari cedendo a loro parere in ciò che non ha nulla di male lasciando da parte un comportamento litigioso ed aspro adattati volentieri ai desideri dei tuoi inferiori nei limiti dei ragionevoli senza pretendere atteggiamenti intransigenti da autorità almeno finché si comportano bene è falso credere che da religioso o da religiosa ci sarebbe più facile obbedire sarebbe la stessa cosa se ora troviamo difficile e dardo obbedire a coloro che dio ci ha preposto nulla cambierebbe mutando stato chiamiamo obbedienza volontaria quella cui ci leghiamo per nostra scelta e che non c'è imposta da alcuno abitualmente il principe e il vescovo non li scegliamo noi né il padre né la madre qualche volta nemmeno il marito ma scegliamo invece il confessore e il direttore spirituale ora sia che alla scelta si aggiunga il voto di obbedirgli come fece santa teresa che oltre all'obbedienza solenne votata superiore dell'ordine si era obbligata con voto semplice ad obbedire al padre graziano o anche senza voto si prometta obbedienza a qualcuno questa rimarrà sempre un'obbedienza volontaria perché è decisa dalla nostra volontà in base alla nostra scelta bisogna obbedire a tutti i superiori a ciascuno nel campo che lo riguarda per ciò che riguarda lo stato e la cosa pubblica bisogna obbedire alle autorità civili per ciò che riguarda il campo religioso ai vescovi per le cose di casa al padre al marito al padrone per la guida personale dell'anima al confessore e al direttore fatti indicare dal padre spirituale gli esercizi di pietà che devi praticare riusciranno meglio ed avranno doppia grazia e doppio valore la prima per se stessi perché sono p esercizi l'altra ricevono dall'obbedienza che li ha prescritti e in virtù della quale sono compiuti gli obbedienti sono dei fortunati perché il signore non permetterà mai che si perdano capitolo dodicesimo la necessità della castità la castità è il giglio delle virtù rende gli uomini simili agli angeli niente è bello se non è puro e la purezza degli uomini è la castità alla castità si dà il nome di onestà e alla sua conservazione onore viene chiamata integrità ed è il contrario è la corruzione god di gloria tutta speciale perché la bella e splendida virtù dell'anima e del corpo non è mai permesso prendere piaceri in pudichi dai nostri corpi poco importa in che modo li legittima soltanto il matrimonio che con la sua santità compensa discredito insito nel piacere anche nel matrimonio bisogna avere cura che l'intenzione sia onesta perché se ci dovesse essere qualche sconvenienza nel piacere che si prende ci sia sempre l'onestà nell'intenzione che lo ha cercato il cuore casto è come la madre perla che può ricevere soltanto le gocce d'acqua che scendono dal cielo già che può accogliere soltanto i piaceri del matrimonio che viene dal cielo fuori da ciò non deve nemmeno tollerare il pensiero voluttuoso volontario e prolungato come primo grado in questa virtù filotea guarda di non accogliere in te alcun genere di piacere inambissibile e proibito quali sono tutti quelli che si prendono fuori dal matrimonio o anche nel matrimonio se si prendono contro le regole del matrimonio come secondo grado taglia per quanto ti sarà possibile anche i piaceri inutili e superflui benché permessi e leciti per il terzo non legare il tuo affetto ai piaceri e alle soddisfazioni che sono comandate e prescritte è vero che bisogna prendere i piaceri necessari ossia quelli che sono legati al fine e alla natura stessa del santo matrimonio ma non per questo devi impegnare in essi il cuore e lo spirito del resto tutti hanno molto bisogno di questa virtù coloro che vivono nella vedovanza devono avere una castità coraggiosa che non soltanto disprezza le occasioni presenti e le future ma resiste alle fantasie che i piaceri leciti provati nel matrimonio possono suscitare nel loro spirito che per questo sono più sensibili alle suggestioni poco oneste è per questa la ragione per cui sant'agostino ammira la purezza del suo caro alipio che aveva completamente dimenticato e non teneva in alcun conto i piaceri carnali che aveva conosciuto almeno in parte nella sua giovinezza prendi a paragone i frutti un frutto sano e intero può essere conservato o nella paglia o nella sabbia o nelle proprie foglie ma una volta intaccato è impossibile conservarlo se non facendone marmellata con l'aggiunta di miele o di zucchero così avviene per la castità non ancora ferita e contaminata sono tanti i modi per conservarla ma una volta intaccata può conservarla soltanto una devozione eccellente che come ho detto spesso è l'autentico miele e lo zucchero delle anime le vergini hanno bisogno di una devozione semplice e delicata per bandire dal loro cuore ogni genere di pensieri curiosi ed eliminare con disprezzo totale ogni genere di piacere in mondo che a essere sinceri non meritano nemmeno di essere considerato dagli uomini visto che i somari e i porci li superano in questo campo quelle anime pure stiano ben attente senza alcun dubbio dovranno sempre avere per certo che la castità è incomparabilmente molto meglio di tutto ciò che le contrario il nemico infatti dice san girolamo spinge fortemente le vergini al desiderio di provare il piacere a tal fine lo rappresenta loro molto più attraente e delizioso di quanto non sia questo le turba molto dice quel padre perché pensano che quello che non conoscono sia più dolce la piccola farfalla c'è maestra vedendo la fiamma così bella vuol provare se non sia altrettanto dolce e spinta da questo desiderio non si arrende finché alla prima prova ci rimane i giovani agiscono allo stesso modo si lasciano talmente affascinare dal falso e vuoto luccichio delle fiamme del piacere che dopo averci girato intorno con mille pensieri curiosi finiscono per cadere e perdersi in questo sono più sciocchi delle farfalle perché quelle in una certa misura hanno motivo di pensare che il fuoco sia anche buono perché è veramente bello mentre questi sanno bene che quello che vogliono è disonesto ma non per questo tagliano la stima folle ed esagerata che hanno del piacere per gli sposati dico che è sicuro anche se la gente comune non riesce a pensarlo che la castità è loro molto necessaria per essi non consiste nell'astenersi in modo totale dai piaceri carnali ma nel sapersi moderare ora a mio parere il comando adiratevi e non peccate è più difficile di quest'altro non addiratevi affatto riesce più facile evitare la collera che controllarla lo stesso si può dire dei piaceri carnali è più facile astenersene completamente che essere moderati è vero che la grazia del sacramento del matrimonio dà una forza particolare per attenuare il fuoco della concupiscenza ma la debolezza di coloro che ne soffruiscono passa facilmente alla permissività e poi alla dissoluzione dall'uso all'abuso molti ricchi sono ladri non per bisogno ma per avarizia così molta gente sposata ruba piaceri disordinati solo per mancanza di padronanza e lussuria benché abbiano un campo legittimo sufficientemente ampio nel quale muoversi la loro concupiscenza assomiglia a un fuoco fatuo che balla qua e là senza fermarsi in alcun luogo è sempre pericoloso prendere medicine troppo forti perché qualora se ne prenda più della giusta dose o anche se la medicina non è stata ben preparata ce ne viene del danno il matrimonio è stato istituito in parte anche quale rimedio della concupiscenza senz'altro è un rimedio di ottima efficacia ma attenzione perché è molto forte di conseguenza può essere molto pericoloso se non è usato con discrezione aggiungo che i casi della vita oltre alle lunghe malattie spesso separano i mariti dalle mogli ecco perché gli sposati hanno bisogno di due genere di castità la prima per essere capaci di vivere in astinenza assoluta quando sono separati nelle occasioni di cui ho appena accennato la seconda per essere capaci di moderarsi quando vivono insieme santa caterina da siena vide tra i dannati dell'inferno molti che erano tormentati con supplizi particolarmente atroci per aver profanato la santità del matrimonio e questo era loro capitato diceva non per la gravità del peccato in sé perché gli omicidi e le bestemmie sono più gravi ma perché coloro che li avevano commessi vi avevano preso l'abitudine senza più farci caso e così avevano persistito negli stessi per lungo tempo vedi dunque che la castità è necessaria a tutti procura di essere in pace con tutti dice l'apostolo e di possedere la santità senza di cui nessuno vedrà dio ora per santità secondo san girolamo e san giovanni crisostomo intende la castità filotea è proprio vero nessuno vedrà dio se non è casto nessuno abiterà nella sua santa tenda se non è puro di cuore e come dice il salvatore stesso i cani e peccatori di sensualità ne saranno esclusi e beati i puri di cuore perché vedranno dio capitolo tredicesimo consigli per conservare la castità filotea tienti lontana dagli inganni e dagli allettamenti della sensualità è un cancro che corrode impercettibilmente e da inizi invisibili ti porta in breve a situazioni incontrollabili è più facile evitarlo che guarirlo i corpi umani assomigliano a vasi di vetro che non possono essere trasportati insieme senza porre qualche cosa tra uno e l'altro senza tale precauzione il rischio di mandarli in pezzi è molto grande anche la frutta ci può insegnare qualche cosa infatti anche se la frutta che trasporti è sana e matura al punto giusto rischi di ammaccarla tutta sballottandola se non metti qualcosa tra un frutto e l'altro anche l'acqua per limpida che sia quando la versi in un vaso se ci mette il muso un animale sporco la sua limpidezza è svanita non permettere mai filotea che qualcuno ti tocchi in modo screanzato né per leggerezza né per amicizia è vero che volendo la castità può essere conservata anche in simili situazioni che sanno più di leggerezza che di malizia ma la freschezza del fiore della castità ne soffre sempre e ci perde qualche cosa se poi uno si lascia toccare in modo disonesto è la fine totale della castità la castità ha la sua radice nel cuore ma è il corpo la sua abitazione ecco perché si perde a causa dei sensi esteriori del corpo e per i pensieri e desideri del cuore guardare ascoltare parlare odorare toccare cose disoneste è in pudicizia se il cuore vi si immerge e ci prende piacere san paolo tagliacorto la fornicazione non deve nemmeno essere nominata tra di voi le api evitano nel modo più assoluto di toccare le carogne ma non basta fuggono e non riescono nemmeno a sopportare il lezzo che ne emana nel cantico dei cantici la sposa dalle mani distilla mirra profumo che preserva dalla corruzione le sue labbra sono coperte di un nastro rosso segno del pudore delle sue parole i suoi occhi assomigliano a quelli di una colomba per la loro purezza il suo naso è incorruttibile come i cedri del libano e così l'anima devota deve essere casta pura onesta di mani di labbra di orecchie di occhi e di corpo a questo proposito ti riporto quello che dice padre del deserto cassiano come uscito dalla bocca del gran san basilio che disse un giorno parlando di se stesso non ho mai conosciuto donne eppure non sono vergine la castità si può perdere in tanti modi quanti sono in genere di impudicizie e di lascivie che poi secondo che sono grandi o piccole l'indeboliscono la feriscono o la fanno morire del tutto certe familiarità certe passion celle leggere un po sensitive a voler essere nel giusto non ledono gravemente la castità tuttavia la indeboliscono la rendono malaticcia e offuscono il suo splendore ci sono poi altre familiarità e passioni che non sono soltanto indiscrete ma viziose non soltanto leggere ma disoneste non soltanto sensitive ma carnali la castità da queste ne rimarrà sempre almeno ferita e paralizzata ho detto almeno perché abitualmente muore e scompare del tutto quando le leggerezze e le lascivie danno alla carne il massimo del piacere voluttuoso perché in tal caso la castità perisce nel modo più indegno perverso e infelice che si possa immaginare è peggio di quando si perde per fornicazione adulterio incesto perché questi ultimi sono soltanto peccati ma gli altri dice tertuliano nel libro dell'impudicizia sono mostri di iniquità e di peccato cassiano non crede io nemmeno che san basilio si riferisca a queste sregolatezze quando dice di non essere più vergine penso che si riferisse soltanto ai cattivi pensieri di sensualità che pur non avendo contaminato il corpo avevano contaminato il cuore della cui castità abitualmente le anime riservate sono molto gelose nel modo più assoluto filotea non frequentare le persone licenziose soprattutto se in più sono anche svergognate il che avviene quasi sempre sai perché sono come i caproni che leccando i mandorli dolci li rendono amari quelle anime maleodoranti e quei cuori infetti non riescono a conversare con alcuno poco importa di quale sesso senza trascinarlo in qualche modo nell'impudicizia hanno il veleno negli occhi nell'alito come i basilischi frequenta piuttosto le persone caste e virtuose pensa e leggi spesso cose sante perché la parola di dio è casta e rende casti coloro che vi si compiacciano sicché davide la paragona al topazio pietra preziosa che ha la proprietà di calmare l'ardore della concupiscenza tienti sempre vicino a gesù cristo crocifisso fallo spiritualmente con la meditazione e realmente con la santa comunione perché allo stesso modo che coloro i quali si coricano sull'erba detta agnus castus diventano casti e puri se tu riposi il cuore sul nostro signore che è il vero agnello casto immacolato scoprirai presto che la tua anima e il tuo corpo sono mondati da tutte le sozzure e le sensualità capitolo 14 la povertà di spirito osservata nelle ricchezze beati i poveri di spirito perché di essi è il regno dei cieli infelici dunque ricchi di spirito perché gli aspetta la miseria dell'inferno il ricco di spirito è quello che ha le ricchezze nel cuore e il cuore nelle ricchezze il povero di spirito è colui che non ha le ricchezze nel cuore né il cuore nelle ricchezze gli alcioni fanno i nidi in forma di palma e vi lasciano soltanto una piccola apertura in alto li piazzano sulla riva del mare e li costruiscono così solidi e impermeabili che se anche le onde dovessero travolgerli le acque non penetrano anzi rimangono sempre a galle in mezzo al mare sul mare e padroni del mare così deve essere il tuo cuore cara filotea aperto soltanto al cielo è impenetrabile alle ricchezze e ai beni caduchi se possiedi delle ricchezze non impegnare il cuore in esse fai in modo di dominarle sempre e pur essendo in mezzo ad esse comportati come se ne fossi senza non affogare quel dono del cielo che è il cuore nei beni della terra conservalo sempre superiore ad essi sopra di essi senza smarrirlo in essi possedere del veleno ad essere avvelenati non è la stessa cosa i farmacisti possiedono quasi sempre del veleno per servirsene in varie circostanze ma non per questo sono avvelenati non hanno il veleno nel corpo ma nel laboratorio allo stesso modo puoi possedere ricchezze senza esserne avvelenata questo se lo hai in casa o nel portafoglio ma non nel cuore essere ricco di fatto e povero nel cuore è una gran fortuna per il cristiano in tal modo ha gli agi della ricchezza in questo mondo e il merito della povertà per l'altro sai filotea nessuno al mondo vorrà mai ammettere di essere avaro tutti negano di essere contagiati da questo tarlo che inaridisce il cuore chi aduce a scusa e pesante fardello dei figli chi la necessità di crearsi una posizione solida non si possiede mai abbastanza si scopre sempre un motivo per avere di più quelli che poi sono avari più degli altri non ammetteranno mai di esserlo e il bello è che in coscienza sono proprio convinti di non esserlo l'avarizia è una febbre maligna che è più forte e bruciante più rende insensibili mosee vide la fiamma che bruciava un cespuglio senza consumarlo al contrario il fuoco dell'avarizia consuma e divora l'avaro senza mai bruciarlo tra gli ardori e i calori più forti egli si vanta di provare la più riposante freschezza di questo mondo e ritiene la sua sete insaziabile una sete naturale e piacevole se desideri lungamente ardentemente e con ansia i beni che non possiedi hai un bel dire che non li vuoi acquistare ingiustamente non sarà per questo che cesserai di essere un autentico avaro chi brama di bere con arsura con insistenza e con ansia anche se desidera bere solo acqua dimostra chiaramente di aver la febbre filotea non so fino a che punto sia un giusto desiderio voler possedere giustamente quello che un altro giustamente già possiede con questo desiderio noi vogliamo fare il comodo nostro incomodando gli altri chi già possiede giustamente un bene non ha forse più ragioni di conservarlo giustamente che noi di volerglielo portare via giustamente e perché vogliamo allungare il nostro desiderio sul suo bene per portarglielo via ma anche volendo supporre che questo nostro desiderio sia giusto per davvero di sicuro non è caritatevole è certo che noi saremmo molto contrariati se qualcuno anche giustamente volesse impadronirsi di quello che giustamente possediamo noi questo è il peccato di acab che voleva impossessarsi giustamente della vigna di nabot mentre nabot giustamente voleva conservarla la desiderò con tanto ardore così a lungo e tormentandosi che finì con l'offendere dio aspetta filotea desiderare il bene del prossimo che il prossimo abbia il desiderio di disfarsene in tal caso il suo desiderio renderà il tuo più che giusto addirittura caritatevole sì sono d'accordo che tu abbia cura di accrescere il tuo patrimonio le tue possibilità ma sempre con giustizia con calma e con carità se sei molto attaccata ai beni che possiedi se ne sei tutta presa e ci metti dentro il cuore e pensieri e temi con un timore intenso e ossessivo di perderli credimi hai ancora la febbre chi ha la febbre beva l'acqua che gli offrono con un ingordigia una bromosia e una soddisfazione che i sani abitualmente non manifestano non è possibile trovare molta soddisfazione in una cosa se non nutriamo per la stessa molto affetto se capita che tu perda dei beni e che il tuo cuore rimanga desolato fortemente afflitto credi a me filotea vuol dire che lì c'era molto del tuo affetto infatti l'afflizione per la cosa perduta è la prova più certa dell'affetto che si aveva per essa e allora non desiderare con una brama travolgente definita il bene che non hai non impegnare troppo il cuore in quello che possiedi non disperarti per i rovesci che potranno colpirti avrai allora qualche motivo di pensare che pur essendo ricca di fatto non lo sei di affetto ma sei povera di spirito e quindi felice perché il regno dei cieli è tuo capitolo quindicesimo come deve essere praticata la povertà reale rimanendo ricchi di fatto il pittore parrasio dipingendo il popolo di atene ebbe un'idea geniale lo rappresentò con espressioni sempre diverse di collera di rabbia di incostanza di cortesia di clemenza di misericordia di alterigia di superbia di umiltà di vanità di timidezza e tutto ciò contemporaneamente io cara filotea vorrei mettere allo stesso modo contemporaneamente nel tuo cuore la ricchezza e la povertà una grande cura è un grande disprezzo dei beni temporali devi avere più cura tu di rendere i tuoi beni utili e fruttuosi di quanta non ne abbia la gente del mondo infatti i giardinieri dei grandi principi non sono forse più accurati dirigenti nel coltivare ed abbellire i giardini loro affidati che se fossero di loro proprietà e perché semplice pensano che quei giardini appartengono ai principi e ai re nelle grazie dei quali vogliono entrare con quel servizio filotea tutto quello che possediamo non è nostro dio ce l'ha affidato e vuole che lo rendiamo fruttuoso e utile se ne abbiamo cura per il bene il nostro servizio gli sarà accetto deve essere una cura maggiore più continua di quella che la gente del mondo ha per i propri beni essi si impegnano soltanto per amore di se stessi noi invece lavoriamo per amore di dio se mette a confronto questi due amori arrivi alla conclusione che poiché l'amore di sé è un amore violento turbolento e ossessivo anche la cura dei beni fondata su di esso sarà agitata rabbiosa e piena di paure per contro poiché l'amore di dio è dolce sereno e tranquillo la cura dei beni fondata su di esso sarà serena dolce e tranquilla cerchiamo di essere calmi nella cura dei nostri beni temporali sia per conservarli sia anche all'occasione per accrescerli se la nostra condizione lo richiede questa è la volontà di dio e noi dobbiamo realizzarla per amore ma fa attenzione agli inganni dell'amor proprio sa così bene scimmiottare l'amor di dio che a volte sembra proprio lui per impedire questo equivoco ossia che la cura dei beni temporali si tramuti in avalizia oltre a quanto ti ho indicato nel capitolo precedente dobbiamo molto spesso praticare una povertà reale ed effettiva pur vivendo circondati da tutte le ricchezze che dio ci ha dato comincia col disfarti di un po dei tuoi beni dandoli di tutto cuore ai poveri dare significa impoverirsi nella misura in cui si dà e più darai e più sarai povera è vero che dio ti ricompenserà non soltanto nell'altro mondo ma anche in questo infatti niente rende gli affari tanto prosperi quanto l'elemosina tuttavia in attesa mancherai di quello che hai dato ed è una santa e ricca povertà quella procurata dall'elemosina ama i poveri e la povertà e questo amore è che ti farà sinceramente povera giacché come dice la scrittura noi assomigliamo alle cose che amiamo l'amore rende simili gli amanti chi è infermo e io non sono come lui dice san paolo avrebbe anche potuto dire chi è povero e io non lo sono come lui l'amore lo rendeva simile a quelli che amava se dunque ami poveri parteciperai realmente della loro povertà e sarai povera con loro se è vero che ami i poveri frequentali spesso si contenta quando vengono a casa tua e tu va a trovarli a casa loro parla volentieri con loro si contenta se ti vengono vicino in chiesa per strada e ovunque usa un linguaggio semplice con loro parlando come usano a parlare tra di loro devi invece essere ricca di mano distribuendo loro con abbondanza dei tuoi beni vuoi fare ancora di più filotea non accontentarti di essere povera come i poveri ma si più povera dei poveri e come il servo è minore del padrone e allora tu fatti serva dei poveri va a servirli nei loro giacigli quando sono malati intendo di persona con le tue mani si loro la loro cuoca a tue spese si la loro cameriera la loro lavandaia filotea questo servizio vale più di una corona reale sono preso da sconfinata ammirazione ogni volta che penso allo zelo con il quale san luigi lo mise in pratica io considero quel monarca uno dei più grandi re della terra ma di una grandezza che abbraccia tutti i settori spesso serviva la tavola dei poveri che manteneva sue spese e quasi tutti i giorni il re gli faceva sedere alla sua mensa e spesso mangiava con amore quello che rimaneva nei loro piatti quando visitava gli ammalati negli ospizi e lo faceva spesso abitualmente serviva quelli che erano colpiti dalla malattia più ributtanti come lebrosi cancerosi e simili gli serviva a capo scoperto e in ginocchio rispettando in essi la persona del salvatore del mondo dimostrava loro una tenerezza che soltanto una madre premurosa ha per il proprio figlio santa elisabetta figlia del re d'ungheria si univa abitualmente ai poveri e qualche volta per divertimento si vestiva poveramente tra le sue dame e diceva loro se fossi povera mi vestirei così cara filotea quel principe e quella principessa erano poveri sul serio in mezzo alle ricchezze ed erano ricchi nella loro povertà beati quelli che sono poveri in questo modo perché di essi è il regno dei cieli ho avuto fame e mi avete dato da mangiare ho avuto freddo mi avete vestito possedete il regno che vi è stato preparato fin dalla creazione del mondo dirà nel giudizio finale il re dei poveri a coloro che a loro volta avranno voluto essere re dominando le cose materiali tutti prima o poi incontriamo situazioni nelle quali sperimentiamo la mancanza di qualche comodità e ne sentiamo il peso ci capita ad esempio di ospitare una persona che vorremmo e dovremmo trattare con riguardo e non c'è modo a causa dell'ora oppure ti capita di avere gli abiti belli in un luogo mentre ti servirebbero in un altro per presentarti meglio ti può capitare ancora che in cantina i vini si siano voltati in aceto e ti rimane solo un vino cattivo e aspro oppure ti trovi in campagna in una bicocca dove manca tutto il letto la camera un tavolo il personale capita spesso di avere bisogno di qualche cosa anche se si arricchi in tal caso bisogna sapere essere poveri in quello che manca filotea si contenta in queste situazioni accetta le volentieri e sopportale serenamente quando ti capiteranno rovesci che ti impoveriranno o molto o poco quali la grandi nel fuoco le inondazioni la siccità le ruberie i processi allora sì che è il tempo di praticare la povertà accetta serenamente la diminuzione dei beni adattati con pazienza e costanza all'impovenimento esaù si presentò a suo padre con le mani coperte di peli e giacobbe lo imitò ma siccome il pelo che copriva le mani di giacobbe non apparteneva alla sua pelle ma i guanti se lo poteva togliere senza scorticarsi al contrario il pelo di esaù apparteneva alla sua pelle era peloso per natura chi avesse voluto levaglio gli avrebbe causato un atroce dolore lo avrebbe fatto urlare e si sarebbe difeso quando i nostri beni sono legati al cuore se la grandine i ladri o gli imbroglioni ce ne strappano una parte che urla che agitazione che tormento ne abbiamo ma se i nostri beni sono attaccati a noi solo per la cura che dio vuole che ne abbiamo e non sono attaccati al cuore se ce li strappano non sarà per quello che daremo in smanie e cadremo in svenimento i vestiti degli uomini e degli animali differiscono proprio in questo i vestiti delle bestie fanno parte della loro carne quelli degli uomini sono soltanto sovrapposti per poterli indossare e togliere quando si vuole